sulla nuova 2008 quando si chiude la macchina gli specchietti automaticamente si richiudono ma quando la temperatura va sotto zero ecco che cosa succede gli specchietti praticamente si ghiacciano si surgelano e il motorino che dovrebbe riaprirgli fa molta fatica e rischia di rompersi quindi bisognerebbe evitare allora tre dita veicolo regolazioni veicolo stazionamento se non ricordo male bloccaggio chiusura retrovisori bisogna metterlo su on in questo modo gli specchietti non si chiudono l'auto si può aprire e chiudere e chiudere ma gli specchietti restano in posizione aperta e quindi la mattina presto quando è tutto ghiacciato il meccanismo il motorino elettrico che li fa aprire non sforzerà e così in questo modo non rischierà di rompersi saluti